Vabbè, io ho un regalino per voi, ho il segnalibro di Luc, ma proprio con il viso di Luc, guardate che bello! Uno per te e uno per te, perché naturalmente è importante leggere, quindi dovete leggere, eh! E io lego tutti i libri di scuola! Leggi tutti? I libri di scuola! Brava! E tu? No, io mi metto lo smart, ma che me ne fottande, vero? Ok, salutiamo i nostri Lucans! Ciao Lucans! Ma sono tornate! Ma che mi avete portato? Oddio, no, li devo aprire, aspetta, ma che bello! Aspettate là, questo è un arcobaleno che c'è scritto Giorgia, bellissimo! No, vabbè! Ma questo è meraviglioso! Ma ragazze, ma grazie! Ma con occhiali... No, vabbè! E quest'altro invece? Apriamo?